Oltre 100 atleti in rappresentanza di 20 società sportive hanno partecipato domenica all'ottava edizione del Memorial Vincenzo Simonini, l'annuale manifestazione che vuole ricordare lo sfortunato tenente di Vascello, promosso al capitano di Corvetta per meriti di servizio, deceduto a soli 37 anni nell'aprile 2012 durante l'attività di simulazione di ammaraggio con elicottero nella piscina della base militare di Luni Maristaeli. Tutti noi ricordiamo quanta passione e quanta dedizione mettesse Vincenzo nel proprio lavoro e per noi più giovani era proprio un punto di riferimento ed è ancora un esempio da seguire. Organizzato dall'Accademia dello Squalo ASD, nata per contribuire alla crescita della manifestazione, il Memorial ha avuto luogo domenica a Lago Le Cave a San Rocchino, nel comune di Massalosa, con partenza delle prime batterie alle 10.30. Ci sono atleti di importanza addirittura internazionale che hanno vinto medaglie e titoli a livello mondiale e quindi a partire dalle categorie principali ai master e agli esordienti ai più piccoli, quindi una giornata per tutti.